Ciao, belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Il file di oggi è considerato uno dei più inquietanti fenomeni paranormali della storia. Questo non tanto per la quantità di cose strane accadute, ma perché è il caso più documentato a livello scientifico, anche se questo non ha comunque portato ad una spiegazione certa. Quindi sono ovviamente curioso di sapere la vostra opinione alla fine del video. Prima di cominciare, come sempre, vi consiglio di dare un'occhiata al sito Pumpling, dove trovate tutte le magliette che indosso nei video e in questo periodo un'intera sezione dedicata ad Halloween. Con il codice Andrew avrete inoltre un paio di calze a scelta in omaggio. Molti di voi già amano questo sito, quindi per chi non lo conosce andate a curiosare. Io ormai sono letteralmente ossessionato da Pumpling, un giorno vi farò vedere tutte le robe che ho comprato, ma non è questo il giorno, quindi direi che possiamo iniziare. Per raccontare questa storia dobbiamo tornare indietro negli anni 70. La nostra protagonista, Doris Biter, all'epoca conduceva una vita abbastanza sconclusionata. Era una madre single con quattro figli, tre maschi e una femmina, avuti da quattro padri diversi. Doris, nonostante i numerosi problemi, lavorava a sodo per cercare di non far mancare nulla alla sua famiglia. Vivevano in una piccola casa situata a Culver City, una città in California. Forse conoscete questa città perché negli anni è diventata il fulcro della storia della produzione cinematografica. Il che è ironico se pensate che su questo evento verranno poi girati diversi film. Ma torniamo alla nostra storia. Col passare degli anni, Doris fatica a stare dietro al lavoro e alla famiglia, che richiedeva uno sforzo non da poco. Infatti, per quanto ci provasse, la famiglia non riusciva ad arrivare a fine mese, e Doris non poteva nemmeno dare da mangiare regolarmente ai suoi figli. Oltre a questo, purtroppo, la donna aveva anche problemi con l'alcol. Da diversi anni, infatti, per via della sua infanzia attravagliata, Doris si sfogava bevendo. Era visibilmente trasandata, e secondo quanto sostengono le persone che la conoscevano, la donna non sembrava del tutto normale. Anzi, secondo loro, soffriva di diversi problemi mentali. Anche i vicini di casa dicevano di vedere in Doris dei comportamenti strani, ma non riuscivano a capire il perché di alcuni suoi comportamenti, appunto. Tutte queste cose l'hanno portata a non avere un bel rapporto con i propri figli, specialmente con il maggiore. Le persone speculavano sulle motivazioni del perché Doris stesse così male, ma non potevano minimamente immaginare quello che veramente si nascondeva dietro a quel malessere. Nella casa di Doris, infatti, ogni notte accadevano delle cose strane. All'inizio la famiglia non ci faceva nemmeno caso. Ad esempio, trovavano spesso le porte che erano sicuri di aver chiuso, aperte, senza nessun apparente motivo. Oppure le luci che si accendevano nel bel mezzo della notte. Questi eventi vengono inizialmente attribuiti alla stanchezza o a delle distrazioni, come potrebbe capitare a chiunque. D'altronde avrebbero benissimo potuto confondersi lasciando loro le porte aperte o le luci accese. Col passare del tempo, però, questi fenomeni si intensificarono. Incominciano a sentire delle strane correnti d'aria fredda in giro per la casa, quando era tutto chiuso. O ancora i bambini dicevano di vedere delle ombre strane la notte. Sentivano qualcuno che parlava e di sicuro non era uno di loro, ma quello era nulla rispetto a ciò che stava per accadere. Doris incomincia a sentire una presenza di notte. Questa presenza è costante. Aveva come la sensazione che ci fosse qualcun altro insieme a lei nella casa, oltre ai suoi figli. Riusciva a percepire chiaramente che quella cosa era appostata nella sua stanza, ed era come se la osservava continuamente. Nonostante questo, la donna non ne parla mai con nessuno. Aveva paura che se avesse raccontato quello che accadeva secondo lei in quella casa, sicuramente l'avrebbero rinchiusa in qualche ospedale psichiatrico o additata come matta. Un giorno nel 1974, Doris si trovava in una libreria locale per i fatti suoi, e per puro caso, quello stesso giorno c'era una conferenza gestita da due uomini sugli eventi paranormali. Sentendo l'argomento del quale si parlava, Doris decide di seguirla. I due uomini che tenevano la conferenza erano il parapsicologo Barry Tuff, che lavorava in un laboratorio di parapsicologia nell'Università della California, e il suo assistente Kerry Gaynor. Una volta finita la conferenza, Doris pensa che quelli sono gli uomini giusti per lei, e così decide di andare a parlargli. Gli racconta della sua esperienza, ma i due inizialmente non le credono. Era comprensibile, visto il suo aspetto malmesso e il suo odore fortissimo di alcol. Questo almeno fino a quando non gli mostra i lividi e le lesioni presenti su tutto il suo corpo. A quanto diceva lei, glieli avrebbe inflitti un essere paranormale. Da qualche tempo prima di quella conferenza, infatti, gli eventi inspiegabili in casa di Doris erano diventati ancora più estremi. Il figlio maggiore sostiene che una volta ha visto sua madre essere letteralmente gettata in aria da una parte all'altra della stanza, e che quando ha cercato di aiutarla è stato scaraventato via anche lui. Oltre a questo episodio, la donna diceva che prima di andare a dormire, quella presenza che prima riusciva soltanto a percepire, ora riusciva anche a farle del male fisico. Tutto era cominciato una sera, quando quella figura la immobilizza, cosa che non le era mai successa prima. Non era una semplice paraliti del sonno, perché riusciva chiaramente a sentire che qualcosa la stringeva tra i suoi arti. Riusciva a sentirlo in tutto e per tutto, il suo ghigno mentre camminava per la sua stanza, e anche il suo odore nauseabondo mentre si avvicinava. Una volta che questo essere è riuscito a bloccarla, avrebbe cominciato a morderla, a graffiarla, e infine anche ad abbracare seriamente di lei. Non importava quanto si dimenasse, era impossibile per lei sfuggire a quella creatura. L'unica cosa che faceva a quel punto era piangere e pregare che quell'essere la liberasse il prima possibile. Dopo questo primo episodio, le cose non si fermarono. Infatti, queste atrocità cadevano quasi ogni notte. Una volta sentita la storia della donna, per quanto strana fosse, Tuff e Carrie si interessarono. Volevano saperne di più. Incominciano a fare numerose analisi di controllo e non trovano nulla che non andasse in Doris. Era un soggetto normale, senza alcuna patologia clinica rilevante. Da alcuni colloqui però erano immersi i suoi problemi con l'alcol e degli eventi riconducibili a delle violenze sexuali di cui però Doris non era molto propensa a parlare. Erano abbastanza scettici perché avevano già svolto altre indagini simili sul paranormale, ma non avevano quasi mai portato a nulla. Rimasero comunque curiosi perché i segni fisici sul corpo di Doris erano davvero inspiegabili. Chiesero anche ad alcune persone vicino alla loro famiglia e anche loro confermavano che accadevano cose inspiegabili in quella casa. Così, il 22 agosto 1974, i due si recano per la prima volta a casa di Doris. Volevano verificare se effettivamente le cose che raccontava accadessero realmente. La casa da fuori non aveva nulla di diverso rispetto alle altre di quel quartiere. Sembrava in tutto e per tutto una casa normalissima. Una volta entrati, però, lo scenario che si trovarono davanti era tutto il contrario. Sembrava passato un uragano, c'erano oggetti sparsi ovunque, bottiglie d'alcol vuote sparse per la casa e spazzatura in ogni angolo. Oltre alle condizioni della casa, però, sentirono subito qualcosa di strano. Decidono così di installare delle telecamere in giro per la casa, così da cercare di catturare qualcosa di paranormale, finalmente. Chiamano anche dei fotografi professionisti per occuparsi delle foto istantanee. E, una volta sistemata l'intera attrezzatura in giro per la casa, chiedono a Doris di provare a invocare quell'entità. Lei, in realtà, non sapeva come fare, perché di solito erano loro a palesarsi. Comincia così ad inveire contro di loro e, con sorpresa di tutti, dopo appena qualche minuto, iniziarono ad accadere delle cose davvero strane. Iniziano ad apparire delle luci nella stanza in cui si trovavano. Non sembravano per nulla spaventose, erano semplicemente delle luci che fluttuavano nella stanza. Dopo un po', però, queste luci spariscono e, in un angolo della stanza, comincia a materializzarsi una nebbia verdastra. Questa nebbia, nel giro di pochi secondi, prende la forma di un torso muscoloso di un essere senza volto. Tutti i presenti erano pietrificati dalla paura, ma, per fortuna, quella creatura sparì quasi immediatamente. Non appena si ripresero dallo spavento, andarono subito a vedere le registrazioni sul nastro, ma non trovarono nulla. Il nastro era vuoto, vedevano soltanto la loro reazione spaventata, ma senza la presenza di quell'essere senza volto. Erano disperati perché, nonostante tutte quelle attrezzature, non avevano prove di quello che era appena accaduto. Ma, controllando meglio, trovarono una foto molto strana. Le apparecchiature di ultima generazione non contenevano nulla, ma, al contrario, con una Polaroid SX-70, a pellicola istantanea, erano riusciti ad immortalare un arco di luce che fluttuava esattamente sopra la testa di Doris. La particolarità di questa immagine è che l'arco non ha nessun tipo di deformazione, nemmeno dove le pareti formano un angolo, quindi non era una luce proiettata sul muro. Questa foto sarà poi anche analizzata da diversi altri esperti, tra cui la redazione scientifica di Popular Photography, che diranno che effettivamente non c'è stato nessun tipo di manomissione né nello scatto né nello sviluppo della foto. Quindi, quella presenza luminosa non si sa da dove provenisse. Oltre a questo, sono riusciti anche a scattare alcune foto strane. Ha detto a loro ogni volta che Doris diceva che l'entità era presente con loro nella stanza, l'immagine risultava essere più chiara rispetto alle altre. Dopo questa visita, per loro sconvolgente, decisero di tornare altre volte, e per circa dieci settimane il team continuò a documentare quello che accadeva durante le sue visite. In questo periodo riuscirono a documentare numerose altre cose strane. Secondo quanto emerso dai loro resoconti, le luci si accendevano e spegnevano da sole, gli oggetti cadevano o si spostavano senza che nessuno li toccasse, e il freddo e la puzza descritti da Doris erano una costante. Quindi tutto quello che gli aveva raccontato Doris combaciava. Oltre a questo, fecero anche degli esperimenti, e notarono che queste entità erano più intense quando mettevano determinati tipi di musica. Tra queste, alcune canzoni dei Black Sabbath in particolare. Riuscirono anche ad identificare queste entità e a catalogarle. Si trattava di quattro individui separati. Una veniva chiamata Who Is It? E secondo loro era lo spirito di un signore anziano. Questa entità in particolare non sembrava pericolosa o minacciosa. Anzi, andava d'accordo con i bambini. Ipotizzarono che potesse trattarsi dello spirito del nonno che era morto soltanto qualche anno prima. Le altre invece erano decisamente più minacciose. Stando alla testimonianza di Doris, due di loro li descrisse come piccoli di statura e ripugnanti. Secondo lei, questi due erano quelli che la tenevano ferma di notte. L'ultima invece era la più pericolosa. Era quella che erano riusciti anche loro a vedere, emersa da quella nube verde che si era presentata davanti a loro. Questa figura possente e terrificante era quella che la mordeva e la graffiava ripetutamente. E anche quella che avrebbe abbiato di lei. Col passare del tempo però le manifestazioni diminuirono e Doris e la sua famiglia finirono per trasferirsi. In realtà si trasferirono più volte perché quelle entità seguivano lei e la sua famiglia ogni volta che cambiavano casa. Infatti le persone che andarono ad abitare dopo di Doris in quella casa dissero di non trovarci nulla di strano, che anzi era una casa molto tranquilla. Il team di ricerca a quel punto, dopo aver raccolto altre testimonianze, non era convinto di voler pubblicare quello che avevano documentato. Perché nemmeno loro avrebbero potuto provare che si trattasse di cose reali al 100%. E parlare addirittura di uno suolo in quel periodo era un argomento troppo sensibile. L'opinione pubblica avrebbe potuto additarli per sempre come dei bugiardi. Loro però erano sicuri di quello a cui avevano assistito e decidono lo stesso di pubblicare le prove che avevano raccolto. In seguito alla pubblicazione e alla diffusione della storia nacquero diverse teorie su quello che effettivamente fosse accaduto là dentro. I fan del paranormale andavano matti per questa storia. Alcuni ci credettero ciecamente e altri ovviamente smentirono tutto dicendo che era soltanto un piano ben architettato. Secondo le persone sostenitrici della visione paranormale, Doris avrebbe giocato troppo con l'occulto e per sbaglio avrebbe aperto un portale che ha fatto entrare delle entità o dei fantasmi nella sua vita. Ed erano proprio questi a perseguitarla. Altri dicono che, secondo loro, Doris avrebbe avuto delle capacità psichiche o telecinetiche e questo l'avrebbe resa un facile bersaglio dalle entità che l'avrebbero usata come catalizzatore per manifestarsi nel mondo reale. Quelli che invece non credono nel paranormale e hanno cercato una spiegazione più concreta a questa storia sostengono che a causa degli a**i subiti da Doris dalle figure maschili nella sua vita abbia inconsciamente materializzato i suoi aggressori in quelle che lei chiamava entità paranormali e i tagli e le ferite se le sarebbe fatte da sola in preda dei deliri, magari sotto l'effetto dell'alcol. Non c'è però una vera e propria risposta corretta, sta a voi quindi decidere se crederci o meno. Ma nonostante questo sia considerato il caso paranormale più documentato, con più di 30 testimoni effettivi, a mio parere non sono comunque riusciti a dare la prova schiacciante che questi eventi siano effettivamente accaduti. Sulla vicenda, come avevo detto all'inizio, vennero fatti diversi film e libri. Tra questi il più famoso è The Entity, proiettato in più di mille cinema. Oltre a questo, una curiosità divertente che non molti hanno riportato è che il regista Martin Scorsese considera The Entity uno dei film più spaventosi di tutti i tempi e ne consiglia assolutamente la visione. Infine, intorno agli anni 90, Doris sparì e nessuno l'ha mai più sentita o vista. Nel 2009 però, un giornalista del sito GhostTheory.com ha intervistato Brian Harris, uno dei figli di Doris, che ha confermato che sua madre è morta nel 1995 a causa di un'insufficienza respiratoria. Ma alla domanda se le cose che accadevano in quella casa fossero vere o meno, lui giura saldamente che tutto quello che la madre ha raccontato è accaduto davvero. E questa ragazzi era la storia di Doris Bitter, il caso paranormale più documentato al mondo. Voi ci credete? Non ci credete? Che spiegazioni date? Fatemi sapere tutto quanto nei commenti, non vedo l'ora di leggere le vostre ipotesi. Io se mi conoscete sapete che non credo al paranormale, ma semplicemente perché non ho mai vissuto o visto delle cose paranormali. Questa storia tuttavia credo che sia molto interessante perché tante delle cose che sono capitate alla donna sono state viste da tante altre persone e anche dai suoi stessi figli. Quindi è possibile che sia stata tutta una messa in scena ovviamente per far soldi, per far visibilità, quello che volete, però che tutte queste persone siano d'accordo su quello che è successo fa un po' strano comunque. Quindi mi raccomando fatemi sapere tutto quello che pensate, io adesso vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Ciao! Ciao!